eccoci qua buongiorno vediamo un po invece con me quelle che sono le novità relative all'ambito magazzino della versione 2023 h e brevemente perché comunque ci sono poche cose alcune delle quali comunque quasi da considerare delle pietre miliari diciamo così allora lanciamo la presentazione colleghiamo anche ad un iDesk magari ok allora dicevo spostiamo la presentazione eccoci qua appunto dicevo che non ci sono molte novità relativamente al magazzino però alcune di queste sono veramente importanti attese da tanti le snoccioliamo brevemente questo piccolo sommario allora nell'anagrafica dei fornitori abbiamo implementato il campo sconto incondizionato e parallelamente quello dei clienti poi per quanto riguarda le particolarità prezzi sconti e provvigioni abbiamo inserito la possibilità di non duplicare le particolarità in caso di autocodifica degli articoli figli di struttura per quanto riguarda invece il discorso dei lotti abbiamo implementato una gestione che permette di replicare e riportare anche sui lotti già movimentati le eventuali modifiche al tipo controllo carico in emissione e revisione documenti la possibilità di applicare le particolarità anche sulla modifica di righe già presenti e per ultimo non meno importante anzi forse più importante da emissione e revisione documenti la possibilità di applicare le condizioni commerciali in caso di modifica di rientestatare documento o comunque delle condizioni commerciali del documento vediamo insieme allora cominciamo con l'anagrafica fornitore semplicemente qui non serve neanche andare a vedere il programma sapete bene nelle condizioni diciamo di gestione di automatismi del magazzino relativamente ai clienti fornitori anche nei fornitori è stato implementato il campo sconto o maggiorazione incondizionato dove posso inserire naturalmente sconti in questo caso nell'esempio abbiamo il 20 per cento di sconto e perché no anche delle maggiorazioni chiaramente in caso di presenza di particolarità sconti queste naturalmente hanno la priorità perché ricordo che la priorità appunto è questa se c'è uno sconto particolare vince quello collegato appunto al fornitore in questo caso se non c'è la particolarità allora prendo lo sconto incondizionato che appunto questo nuovo campo che abbiamo implementato in anagrafica nelle condizioni altrimenti viene preso lo sconto derivato dalla tabella sconti in quantità o per ultimo la tabella sconti normale parliamo invece adesso delle particolarità prezzi sconti provvigioni allora abbiamo implementato questa opzione che permette di non duplicare le particolarità del padre quando vengono creati gli articoli figli in ambito appunto di codici strutturati che cosa vuol dire questo in pratica nella tabellina delle anagrafica diciamo nell'anagrafica della struttura di ogni struttura all'interno dei parametri se è stato scelto di fare il riporto particolarità in questo caso nell'esempio vi ho mostrato p ecco è stato abilitato un nuovo campo il nuovo parametro duplica particolarità che normalmente è attivo ok questo significa come nelle versioni precedenti che il programma quando viene creato in automatico un figlio quindi c'è l'autocodifica di un articolo figlio poiché si è richiesto di riportare anche le particolarità del padre lui che cosa faceva e fa prende la stessa particolarità che trova sul padre o comunque sull'elemento che è stato dichiarato nei dati per creazione e la va a riportare nelle particolarità tale quale e quindi che cosa vuol dire questo vuol dire che nelle particolarità io mi ritroverò una cento mille volte a seconda di quanti figli vado a generare dall'autocodifica tutte uguali perché in sostanza lui le duplica esattamente identiche a quelle del padre dopodiché uno le può sempre modificare questo ovviamente però nel caso in cui non le vada a modificare che cosa ho una un incremento enorme se vogliamo di queste particolarità tutte uguali di fatto perché sono tutte uguali a quelle del padre allora in questo caso noi che cosa abbiamo fatto se vado a spegnere questo parametro nuovo duplica particolarità il programma non crea non va a duplicare la particolarità ma usa sempre quella del padre anche per i figli quindi quando mi troverò ad usare in emissione e visione documenti un articolo figlio strutturato il programma andrà a vedere se per quell'articolo figlio nelle particolarità è presente la particolarità del padre a quel punto prende quella senza bisogno di andare a creare una grafica apposita dell'interno delle particolarità stesse quindi questo significa risparmiare un sacco di spazio in questo archivio delle particolarità che è molto usato e che sappiamo in alcune installazioni crescere molto molto di dimensioni e quindi diciamo così per ottimizzare la gestione appunto della dell'archivio delle particolarità abbiamo dato questa possibilità qua ovviamente se l'utente decide poi di creare la particolarità per il figlio chiaramente il programma prende quella quindi se in anagrafica delle particolarità trova la particolarità del figlio la prende altrimenti prende quella del padre purché naturalmente qui l'opzione sia spenta quindi parametro settato a no ok terza cosa qui si tratta di una funzione di servizio abbastanza richiesta cioè allora faccio piccola premessa iniziale parliamo dei lotti allora quando vado a creare un lotto è possibile naturalmente nei parametri di tipo lotto definire un parametro che riguarda il carico tipo controllo carico in sostanza permette di controllare lì tra l'altro nella slide ho preso un riassunto dal manuale permette di controllare con dei messaggi bloccanti durante il carico di del diciamo di magazzino del dell'otto appartenente a questa tipologia con varie diciamo livelli di ristrettezza di diciamo così di di controllo allora quando crea la prima volta il tipo lotto lui mette l'emme in questo tipo controllo cioè per documento che diciamo così in assoluto il controllo più stringente perciò viene controllato addirittura che l'otto non sia caricato sia caricato scusate da un unico documento quindi se io faccio un carico un documento con un carico un lotto con il documento x una volta che quell'otto è stato caricato non lo posso caricare più conosce un altro documento quindi molto restrittivo secondo livello diciamo di ristrettezza un po più ampio è il controllo invece sul fornitore cioè viene fatto il controllo sul fornitore viene contro non viene controllata la data di carico sì che io posso caricare lo stesso lotto dallo stesso fornitore in date diverse d'accordo altra possibilità ancora meno resti meno stringente è il controllo sulla data di carico a questo punto il programma non controlla il fornitore e posso caricare più volte lo stesso lotto anche da fornitori diversi ma la data deve essere la stessa e l'ultimo il meno stringente di tutti invece è articolo faccio il controllo sull'articolo che significa che non vengono controllati nel fornitore nella data di carico posso caricare più volte lo stesso lotto da fornitori diversi con qualsiasi data di carico ora queste cose sono già date per assodate dove sarà la novità sta che se io vado a modificare da magazzino tabelle aziendali anagrafica tipi lotte matricoli vado a modificare il tipo di controllo carico per cui ipotesi avevo codificato con m di documento mi sono sbagliato però ormai ho fatto dei carichi non posso posso andare a fare la variazione ma i vecchi lotti non già movimentati non diciamo non percepiscono questa novità ok questa proprietà vale solo per i lotti nuovi d'accordo ecco allora che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto che nella funzione di servizio variazioni magazzino varia dati lotto abbiamo tra l'altro si può in questo caso anche andare a vedere magazzino varia dati lotto abbiamo cambiato anche il nome del menu tra l'altro ok abbiamo fatto che cosa abbiamo innanzitutto aggiunto il campo di selezione tipo lotto così che io posso prendere tutti i tipi lotti cioè tutti i lotti di una certa tipologia tutti in blocco senza dover fare da codice a codice eccetera e come vedete in questa opzione chiedere anche di fare la modifica del tipo controllo carico a livello anagrafico anche sui lotti già movimentati in modo tale che anche quelli già caricati magari una settimana fa possano diciamo così essere caricati nuovamente con altri documenti o con altri fornitori eccetera eccetera ecco in questo modo quindi portiamo la variazione d'accordo del tipo controllo carico non solo sui lotti nuovi che verranno generati che verranno caricati ma anche su quelli già esistenti chiaramente la modifica agisce solo in senso accrescitivo cioè io posso da un tipo controllo molto stringente passare a un controllo più lasco diciamo ok quindi dal documento passare a fornitore o a data carico articolo ma non viceversa perché altrimenti dopo questi controlli nei documenti vecchi e farebbero diciamo così farebbero saltare tutta una serie di controlli che non che non si possono diciamo così andare a sistemare diversamente bene parliamo adesso del di emissione dei documenti invece dove abbiamo due grandi novità una riguarda la possibilità di applicare le particolarità anche in fase di modifica righe che cosa voglio dire allora se io per esempio vado a creare un documento di un cliente dove vado magari ad inserire un articolo e su questo articolo magari ho delle particolarità proviamo magari a prenderne uno ok se io qui per esempio metto quantità 10 lui mi riporta le particolarità sconto le particolarità provisioni eccetera eccetera chiamo lo stesso articolo giusto per farvi vedere modifico le quantità cioè modifico un elemento che va in qualche modo ad agire poi sul prelievo delle particolarità quindi potrebbe essere la quantità oppure il prezzo lo sconto eccetera e lui mi fa vedere come vedete riga nuova mi fa vedere che variando le quantità ottengo prezzi sconti e provisioni diverse giustamente ok ecco che cosa succede che se io torno nella riga precedente mi sono sbagliato non era di uno era quantità 10 vengo qua vedete che non lui non cambia il prezzo non cambia gli sconti non cambia quindi neanche le provisioni perché il programma normalmente si comporta in questo modo considera che le righe già inserite in qualche modo possono essere state anche inserite manualmente cioè se io qui poi corrego manualmente un prezzo uno sconto e torno sulla riga e vado a variare qualche informazione lui non mi deve andare a ricalcolare perché il prezzo lo variato manualmente d'accordo può questo è il concetto però che cosa succede che abbiamo fatto allora siccome questa è una richiesta da lungo tempo abbiamo fatto in questo modo abbiamo detto di applicare di creare diciamo un nuovo parametro di magazzino vogliamo vedere pagina 2 eccolo qua più o meno verso la fine della pagina vedete proposta particolarità anche in modifica righe documento se lo attivo e confermo se rifacciamo la prova di poco fa quindi faccio una bolla chiamo il mio cliente chiamo l'articolo di nuovo quantità 1 lui legge per la prima volta le particolarità e me le propone ok altra riga nuova quantità varia quindi lui a questo punto va a vedere se sono particolarità in base alle quantità e dice ok allora il prezzo è quello lo sconto è quello la provvisione quella eccetera eccetera ora col parametro attivo cosa accade che anche se la riga precedente era già stata scritta se io torno sopra e vado a modificare un elemento che va in qualche modo a recuperare ad aggiornare diciamo quelli che sono appunto le particolarità di riga il programma me le riporta anche sulla riga già inserita e quindi questa è la novità in sostanza con un parametro ok posso andare chiaramente parametro spento per le aziende già presenti perché appunto non vogliamo modificare l'operatività invece abbiamo deciso di attivarlo invece per le nuove aziende però chiaramente un parametro si può accendere spegnere e quindi dopo di conseguenza agirete come meglio credete chiaramente se il parametro attivo quando modifico sulle righe documento un qualsiasi elemento che interagisce con le particolarità quindi adesso vi ho fatto vedere la quantità ma potrebbe essere il prezzo sugli sugli sconti oppure gli sconti sulle provisioni per esempio ecco che il programma riporta automaticamente senza messaggi le nuove condizioni quindi lui ripropone semplicemente come se la riga fosse nuova per essere più chiari il parametro vale per tutte le particolarità sia per i documenti nuovi che documenti in revisione se il parametro è spento le particolarità vengono proposte solo sulle nuove righe come facciamo una volta quindi sostanzialmente come siamo abituati a vedere ultima novità io sono andato velocissimo anche perché i colleghi mi hanno lasciato poco tempo però mi sembra molto facile tutto quello che vi sto facendo vedere quindi sinceramente ecco non avrei potuto occupare più tempo diciamo ecco l'ultima novità molto interessante il discorso applicazione condizioni commerciali in caso di modifica intestatario cosa vuol dire quando noi lavoriamo su un documento ok può capitare che stiamo preparando un documento magari abbiamo dentro 20 righe 30 righe 50 pagine di articoli e poi ci accorgiamo l'ultimo a ma non era questo il cliente era un altro bene allora se lo andiamo a cambiare quindi ne prendiamo un altro diverso ci assomiglia come nome ma non è lui che cosa fa il programma adesso mi avvisa qui non c'è un parametro semplicemente mi dice guarda che ho cambiato le condizioni del documento sarebbero variate le condizioni del documento vuoi applicarlo oppure no se faccio esc quindi no lui lascia tutto così come si trova problemi non ce ne sono se invece vado a modificare diciamo confermo la variazione naturalmente devo cambiare conto ok lui se ne accorge con f10 o sì col mouse cosa fa il programma prende e riporta le condizioni adesso in questo caso sono tutte particolarità per cui facciamo meglio la nostra prova prendendo magari un documento già esistente ok eccolo qua vedete che ho già delle condizioni scritte potrei avere scritte a mano potrebbero derivare da particolarità eccetera eccetera se io le vario vario il conto lui mi avvisa sono variate le vuoi variare sì con conferma come vedete adesso i prezzi sono variati gli sconti sono variati eccetera eccetera perché ha preso le condizioni dell'intestatario nuovo questo vale anche se faccio f6 e modifico manualmente le condizioni commerciali del documento no se io per esempio dico listino 3 sconti premium agente 3 allequota 33 spariamo tutto a caso sono variate confermi sì e lui mi riporta naturalmente sulle righe le condizioni variate ok questo avviene se nel documento ci sono delle righe sul documento in questo caso per esempio nuovo e io chiamo chiamo un cliente non c'è nessuna riga sopra io cambio di nuovo non succede niente cioè non mi avvisa di nulla visto che ancora righe non ce ne sono lui deve ancora inserirle quindi questa questo controllo questo messaggio diciamo lo abbiamo nel caso in cui siano già compilate delle righe e questo come ripeto vale anche quando magari richiamato un cliente mettiamo giù tutte le nostre righe e via dicendo torniamo sopra invece che cambiare il cliente cambiamo semplicemente il listino supponiamo lui si accorge che qualcosa è cambiato confermo e guarda caso adesso sono gli stessi però lui avrebbe riapplicato un nuovo listino proviamo a vedere f6 con un listino completamente diverso e ancora no non lo varia perché in questo caso il prezzo ancora non è variato probabilmente perché qui non ho nessuna variazione proviamo con questa forse meglio f6 e ancora non varia quindi evidentemente che abbiamo dei listini tutti uguali è un esempio poco calzante proviamo fare così ecco vedete che nella riga della fibra metallica è cambiato il prezzo perché ovviamente abbiamo cambiato le condizioni di listino diciamo che questo è sono le variazioni diciamo che noi abbiamo fatto nell'ultima versione questo discorso appunto della variazione del conto di testata documento è stato molto richiesto da sempre quindi io lo considero quasi una pietra miliare diciamo del programma una modifica molto interessante un'implementazione molto importante per tanti che magari fino ad oggi erano costretti ad abbandonare il documento rifarlo nuovo chiamando il cliente giusto e rimettere giù tutti gli articoli oppure magari ricorrere alle matrici oppure importare il corpo di righe da altri documenti eccetera quindi diciamo che questo secondo me è davvero una delle implementazioni più attese d'accordo dunque a ecco se io a zero il conto stavo dimenticando questo sia zero il conto anche in questo caso lui mi dice attenzione io non conoscendo più che l'intestatario che devo fare e lui confermando vedete li a zero tranne l'aliquota iva che ovviamente va a prendere quella dell'articolo non avendo detto ancora dichiarato chi è il cliente quali sono le eventuali condizioni iva particolari il programma ovviamente a zero a tutte le condizioni e applica l'aliquota prevista dall'articolo allora io sono stato velocissimo purtroppo il tempo è scaduto quindi dobbiamo fermarci e vi aspetto eventualmente per rispondere alle domande che intanto abbiamo registrato e alle quali daremo risposta nel più breve tempo possibile grazie tante buon lavoro e buon pranzo per chi va a pranzo grazie a tutti